Ciao amici di Luce in Natura, ben ritrovati! Quest'oggi ci vediamo come sostituire il tubo benzina del moto zappa. Questo è un problema che prima o poi capiterà a chiunque, il tubo vecchio col tempo si scalda, si rovina, si indurisce e potrebbe iniziare a rompersi. Penso che questo video possa essere utile a chiunque abbia un moto zappa o un moto coltivatore, quindi seguitemi attentamente perché vi faccio vedere che cosa smontare, come arrivare al tubo benzina e come sostituirlo, che tipo di tubo poter scegliere, quale diciamo è migliore, quale dura di più, quale dura di meno. Insomma cerco di darvi due consigli che possano essere utili a chi si ritrova a fare un po' di manutenzione agli attrezzi agricoli nel periodo invernale. Allora iniziamo subito, la cosa bella diciamo di smontare un attrezzo agricolo, la cosa interessante è che non lo faccio in officina ma lo faccio sul campo, quindi diciamo la situazione diventa un po' più interessante, un po' più se vogliamo uno step di complicazione successivo. Prendiamo un cartone e ce lo poggiamo a fianco al moto zappa e un pennarello, questo perché? Perché mano a mano che noi smonteremo i pezzi, di solito potete usare anche un lenzuolo chiaro, smontiamo i pezzi, li mettiamo in un certo ordine e li segniamo, questo perché quando dovremo rimontare i pezzi andremo nell'ordine inverso, vi è chiaro fin qui? Come attrezzatura ci basta qualche chiave e qualche cacciavite, non è che ci serve chissà che cosa, voglio dire sono attrezzi standard, semplici, può essere moto zappa, può essere un trattore, quello che sia. Quindi amici spero proprio che il video possa tornare utile a qualcuno che ha la necessità di sostituire il tubo benzina per il moto zappa. Allora la prima operazione partiamo con lo smontare il filtro, noi dobbiamo arrivare da un lato al carburatore, dall'altro lato al serbatoio per poter sostituire il nostro tubo benzina, quindi prima operazione smontiamo il filtro, rimuoviamo questi perni, filtro a bagno d'olio, abbiamo tolto il nostro filtro, sia la parte diciamo la scocca, il cover, che è la parte del filtro a bagno d'olio e adesso abbiamo svitato, se voi vedete qui, uno, due e tre dadini, due sono solo il dadi, il terzo è la vite perché il dado è saldato dentro e li mettiamo qua. Ora possiamo come vedete rimuovere la nostra cover del filtro ed ecco che ci troviamo il carburatore, prendiamo la cover del filtro e ci scriviamo tre, eccoli qua. Cerco di farlo il più semplice possibile affinché tutti quanti riescano a capire, come vedete area chiusa, area aperta, dal carburatore esce questo tubo benzina che va al nostro serbatoio, quindi collega il serbatoio al carburatore. Ora il passo successivo è quello di arrivare al serbatoio, quindi al carburatore ci siamo arrivati ed abbiamo l'uscita, però l'ingresso è diretto sul serbatoio, quindi adesso dobbiamo arrivare al serbatoio, per arrivare al serbatoio dobbiamo smontare il blocco di avviamento, questo davanti, smontiamo uno, qua sotto ci sono gli altri, eccoci qua abbiamo smontato questi due bulloni corti sotto e il bullone grande sopra, quello più lungo, e li mettiamo qua come quarto reperto e ci scriviamo un bel 4 e andiamo avanti così. Adesso possiamo rimuovere il sistema di avviamento, amici dobbiamo arrivare sotto al serbatoio, quindi abbiamo rimosso il gruppo proprio di avviamento, non ci resta che rimuovere quest'altra cover, quest'altra copertura qua che è fissata da quattro bulloni come questo, quindi adesso io vado a svitare tutti e quattro, si trovano uno a ogni angolo, sotto, sopra, dall'altro lato e sotto, l'operazione è sempre la stessa, ecco qua ho rimosso il primo, rimosso il secondo, passo dall'altro lato amici ho rimosso tre bulloni su quattro, il quarto è profondo quindi adesso mi devo utilizzare una chiave come questa, quindi una chiave profonda, che però diciamo questa è una 10, qua ci vuole una 8 che io non ho, oppure utilizziamo un flessibile col trapano, mi sono attrezzato con una cosa del genere, un flessibile, un adattatore e una chiave a bussola, eccoci qua, eccolo, vedete questo proprio profondo, gli altri tre sono stati abbastanza semplici, comunque, aperto numero 5, li facciamo proprio come da ragazzini quando si smontavano i motorini pezzi pezzi, allora ci siamo arrivati al tubo benzina, vediamo un po', prima che ve lo filmo, il tubo benzina parte da sotto il serbatoio, questo che vi sto inquadrando adesso al centro con la linguetta, vedete parte da sotto il serbatoio e arriva al carburatore, io adesso sfilo il vecchio tubo che già avevo tolto, ve l'ho rimesso solo per farvi vedere come era alloggiato, eccolo qua, allora amici abbiamo tolto il nostro tubo benzina, questo qua, perché può essere danneggiato, adesso non so perché lo dovete sostituire, comunque ognun tot di anni si cambia, e supponiamo che sia danneggiato, quale tubo andiamo a scegliere? In commercio ci sono tubi di tre tipi diversi, ma due in particolare, quelli in plastica trasparente, quei famosi tubi in plastica trasparente che sono bellini, carini e che costano anche tanto, beh quelli si vanno a scaldare in fretta, per quanto possono essere belli da vedere non sono duraturi longevi come i tubi in gomma, il tubo in gomma quando lo andiamo a prendere ciò che dobbiamo vedere è il diametro interno, misuriamo il diametro con un calibro nella parte interna, vediamo se è 4, 5, 6, 8 mm, 3 mm, quello che sia, e ne prendiamo uno equivalente in gomma. Dei tubi in gomma i più, diciamo, i più professionali sono quelli a doppio strato con la tela dentro, hanno due strati neri e al centro c'è come se fossero telati, quelli sono contro le pressioni, nel nostro caso abbiamo preso un tubo equivalente a quello che era il suo, ora quanto tubo prendiamo? Vale sempre la pena prenderne di più, io in questo caso ne ho preso un mezzo metro e poi me lo vado a ritagliare, ci possiamo aggiustare e se sbagliamo qualcosa comunque ne abbiamo ancora di tubo quindi non andiamo a perdere tempo. Io adesso taglio il tubo in gomma della stessa lunghezza del mio tubo da sostituire e poi andiamo avanti con la sostituzione. Allora amici ho tagliato il tubo nuovo della stessa lunghezza del tubo vecchio, ho tolto i due gancetti, due fermi, mi serviranno per rifissarlo di nuovo sia sul lato del serbatoio che sul lato del gruppo del carburatore e adesso non mi rimane che andare a rimettere il tubo nuovo in gomma, ovviamente il tubo nuovo in gomma è molto più flessibile perché quello vecchio col tempo e con gli anni si è scaldato, il mio consiglio è almeno ogni 2-3 anni di sostituire il tubo benzina, poi dipende dalla qualità del tubo benzina che andate a sostituire però per precauzione io vi consiglio quando iniziano a passare un po' di anni, avete il moto zap, il moto coltivatore al sole magari estate inverno all'aperto, di pensare di sostituirlo oppure quando si rompe, però poi di solito quando è che si rompe? Quando dovete fare una giornata di lavoro quindi meglio usare le giornate invernali in cui ci sono meno lavori nell'orto, nel giardino, frutteto quello che sia per andare a fare un po' di manutenzione ai nostri mezzi agricoli e questo video spero che possa essere utile a tutti coloro che mi stanno seguendo e che hanno moto zap e moto coltivatori, questo tubicino che vi sto inquadrando, questo è l'attacco sotto il serbatoio, metteremo il tubo sotto il serbatoio all'interno di questo porta reggitubo questa fessura qui e poi andremo a mettere sull'altro attacco, ma l'andiamo a fissare con i nostri cancetti e il gioco è fatto. Ok amici adesso ho fissato il primo, passiamo a fissare il secondo, spero che un po' si riesca a vedere, ma infiliamo il nostro tubo in gomma, ok adesso con l'aiuto di una pinza mettiamo il nostro fermo, eccolo qua, abbiamo fatto passare questo dentro e ci siamo. Adesso non ci resta altro che rimontare il tutto, chiudere e mettere in moto, io mi scuso per le inquadrature ma non è semplice fare il lavoro allo stesso tempo cercare di lasciare una testimonianza, ripartiamo dal numero 5, poi il 4, poi il 3, poi il 2 e poi l'1, quindi dal carter, poi andiamo avanti con il gruppo di avviamento, poi la parte bassa del filtro, la parte alta del filtro e tutto il resto. Ciao! 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 Amici, oggi siamo in versione meccanica, non ci resta che metterlo in moto, quindi abbiamo preso la benzina, mi raccomando per la benzina sempre tanniche anti esplosione, non mi fate vedere che la benzina non è la nafta, non è il diesel, non mi fate vedere quelle scene di gente che prende la benzina con la tannichetta di plastica. Allora facciamo sto pieno a sta moto zappa, facciamo prima un test prima di fare il pieno perché comunque sono due litri e vediamo un po' come si comporta, non mi resta che accenderla e provarla con voi. Allora off, zero, un po' meno uno, zero, perfetto, qui stiamo sullo, chiudiamo l'aria, apriamo il serbatoio, perfetto, facciamo uscire un po' di benzina off dal drenaggio, ci siamo. Allora amici, il moto zappa è partito, abbiamo sostituito il nostro tubo, io spero che questo video sia stato abbastanza chiaro e sia stato utile e vi sia piaciuto. Se vi piace la versione meccanico possiamo tornare in un'officina, possiamo farla all'aperto, insomma io neanche troppe attrezzi, mi basta qualche chiave e vi smonto qualsiasi cosa, quindi non è che è la mia passione smontare e rimontata quando ero bambino. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, se vi piace questo filone di manutenzioni, sostituzioni e cose varie, non mi rimane che ringraziarvi per l'attenzione e noi ci rivedremo presto al prossimo video, un saluto e un abbraccio di cuore. Ciao! Ciao! Ciao!